Erano sbarcati insieme agli 837 migranti giunti domenica al porto di Corigliano. Stanotte sono stati tratti in arresto dagli agenti della squadra mobile e coadiuvati dagli uomini della sezione operativa navale della Guardia di Finanza e della Capiteneria di Porto di Corigliano. I tre presunti scafisti che avrebbero condotto centinaia di profughi nel loro viaggio della disperazione iniziato sulle coste libiche. I migranti, provenienti dall'Africa subsahariana, dalla Libia e dal Maghreb, erano stati soccorsi in mare aperto e condotti al porto di Corigliano a bordo del mercantile Vos Chablis. A bordo della nave, 833 migranti, di cui 742 uomini e 80 donne, alcune delle quali incinte, 11 bambini accompagnati e 50 minori non accompagnati. I quattro soggetti fermati, tre dei quali accusati di aver organizzato la traversata, sono di nazionalità senegalese. Il quarto tratto in arresto è un cittadino marocchino che era stato già espulso dal territorio nazionale nel 2014. I quattro arrestati si trovano nel carcere di Castrovilleri a disposizione dell'autorità giudiziaria. Loredana Colloca per la CNews24.